Lei, kiss me, kiss me, c'è il tuo cuore, palpita d'amore, amore si per te. Cristina D'Avena, benvenuta nella nostra città di Orte. Grazie. Allora, questo è il quarantesimo anno di attività, ma quante carriere hai avuto? Tante. Ho iniziato più di 40 anni fa, perché avevo tre anni quando ho partecipato allo Zecchino d'Oro con il balzer del Moscerino, quindi devo dire che ho fatto tante cose nella mia vita fino ad oggi e spero di farne tante, tante, tante ancora. Allora, noi sappiamo che lei, ecco, lei ha avuto questo rapporto con l'Antoniano. Lei è stata una delle colonne di questo glorioso coro dell'Antoniano. È vero, appunto, ho partecipato a tre anni con il balzer del Moscerino e sono rimasta nel piccolo coro per tantissimi anni, tanti proprio. Senta, ma il rapporto con la sua immagine, cosa significa essere una diva dei bambini? Eh beh, significa essere una persona molto semplice, molto naturale, molto empatica, perché poi, insomma, alla fine io sono una persona che instaura con il proprio pubblico un rapporto di grande fiducia, di grande rispetto. E quindi penso che sia soprattutto questo, amore, fedeltà e semplicità. Che tipo di musica ama? Lei preferisce, diciamo, cantare in un gruppo, in una corale, oppure magari preferisce essere, come ha la sua abitudine, diciamo, di essere una solista, ecco? Ma, guarda, mi piace fare un po' tutto, nel senso che se mi capita di cantare in un coro lo faccio volentieri, se mica, quando canto da solista, ovviamente, sono una cantante per cui mi piace, però mi piace fare un po' tutto e sperimento anche tante cose. E quindi, alla fine, la musica è bellissima, proprio perché ti dà la possibilità di esprimerti, quindi. Il rapporto tra la produzione discografica e il successo e questo nuovo mondo dei talent, è cambiato il modo di costruire il successo perché è filtrato dai talent? È cambiato tutto. È cambiato tutto perché ora, più che mai, il mondo è cambiato e quindi il successo, diciamo, che arriva molto prima. Il talent ti dà la possibilità di esprimerti, si chiama talent perché se hai talento vieni fuori e quindi hai subito contratti discografici, inizi subito una tua carriera, cosa che prima non succedeva perché prima dovevi farti conoscere e poi magari facevi il primo disco, poi il pubblico ti doveva ascoltare e poi usciva il secondo singolo, poi il terzo singolo, adesso invece ne esce uno, il pubblico è già in delirio e quindi... Però bisogna sempre stare molto attenti, io dico sempre ai miei piccoli, grandi colleghi, perché sono giocomani, dico cercate di rimanere sempre con i piedi per terra perché insomma dobbiamo gustarci, dovete gustarvi ogni attimo della nostra vita e gustarvi il vostro successo e cercare di mantenerlo, che non è sempre molto facile. Le chiedo anche attualmente come si sta muovendo, le piace coltivare la musica leggera o preferisce magari fare l'attrice? Mi piacerebbe fare anche l'attrice perché io sono stata la protagonista di tanti telefilm e quindi mi piacerebbe molto, sì. E se le proponessero una fiction o un programma televisivo cosa sceglierebbe? Ma guarda, forse la fiction perché appunto io vengo un po' da lì, dal mondo di Licia, di Cristina, eccetera, ma il programma televisivo poi alla fine va bene perché anzi sono stata ospite in tantissimi programmi e mi piace molto. Cristina D'Amena, grazie per questo incontro. Come vogliamo salutare i nostri telespettatori? Intanto grazie perché sono arrivata questa sera e devo ancora esibirmi ed è meraviglioso, sento già un calore e un amore infinito, grazie. E poi sono contenta di essere qui perché c'è la festa di Sant'Antonio di Padua e io sono molto devota quindi appena mi hanno chiesto che avrei cantato durante la festività di Sant'Antonio ho detto va guarda, è stato lui sicuramente. Il suo cuore ora si batte, batte forte, forte, forte Mila e Giro, con le quali delle belle lavoro Giro e Mila, amore prima vista è ancora Mila e Giro